La giornata numero 32, la tredicesima di ritorno, potrebbe cambiare la classifica e dare ancora più pepe al finale di stagione nel girone F di Serie D. Sì, perché il calendario propone delle sfide davvero interessanti, a partire dalla gara del Dino Manuzzi, Orogel Stadium, che metterà di fronte la capolista Cesena e del Pineto. I bianconeri nel posticipo di lunedì scorso non hanno approfittato del pari del Matelica e conservano 5 punti di vantaggio. Gli uomini del tecnico Angelini non possono davvero commettere passi falsi, ma l'ostacolo è di quelli impegnativi perché il Pineto, oltre ad avere un organico da playoff, sta attraversando un periodo davvero positivo, considerati i 7 risultati utili consecutivi. Attende buone notizie il Matelica, che sulla carta ha un turno abbordabile, in casa contro il Sant'Arcangelo, in risalita, ma fragile e lontano dal campo amico. In ottica playoff è quasi uno spareggio quello che attende il notaresco. Gli uomini di mister Cudini, terzi al pari della Recanatese, ospitano una sangiustese temibilissima, nonostante gli ultimi due KO. Diversi gli ex, compreso il tecnico Rosso-Blu. Mancherà lo squalificato Minella, ma la compagine del presidente Di Giovanni, vincendo, potrebbe quasi estromettere dalla corsa i marchigiani, che scivolerebbero a meno 7. Promette spettacolo la sfida tutta giallorossa tra San Maurese e Recanatese, mentre la gara del Fadini è un appuntamento di quelli da non fallire per il Real Giulianova. Sul campo amico, contro un campo basso in salute, con l'obiettivo fissato ancora verso i playoff, i giallorossi di mister Bolsan sono chiamati a vincere, nonostante la pesante assenza del goleador di Paolo. Gli incroci Francavilla-Forlì, Agnonese-Savignanese e Montegiorgio-Vastese mettono di fronte, da una parte, squadre tranquille o in lotta per i playoff, e dall'altra compagini a caccia di punti fondamentali per uscire dalla zona calda. Le motivazioni, in questo caso, possono davvero fare la differenza. Anche in questo turno di campionato i punti pesano ed in chiave salvezza la sfida tra Avezzano e Iesina ha un'importanza vitale, con i marsicani che se la vedranno contro una delle formazioni più in forma del momento, come quella Leoncella. Il match tra Castelfidardo e Isernia, infine, pone i molisani ad un bivio davvero decisivo. Vincendo sarà possibile per gli uomini di Silva fare un bel passo in avanti verso la salvezza. In caso contrario, seppur con diversi incontri ancora da risputare, sarà davvero dura evitare i playoff.